Ciao Taranto, uno mi manchi, due mi dispiace non essere fisicamente lì, vi chiedo scusa ma tornerò per una serie di motivi. Ringrazio Taranto davvero di cuore per averci ospitato, per avermi personalmente ospitato con grande calore e cura e attenzione. Ringrazio tutte le realtà tarantine che ci hanno aiutato a fare questo film, ci hanno aiutato concretamente a farlo. Spero di vedervi tutti molto presto e spero soprattutto che siate orgogliosi del film che abbiamo fatto da voi.